Ci troviamo di fronte ad un ennesimo atto di vandalismo e di persecuzione, di fronte a questa nuova amministrazione che si sta adoperando in tutti i modi per poter rendere il paese più vivibile e più consono a quelle che sono le esigenze moderne anche per quanto riguarda il problema degli smaltimenti. Indubbiamente in una giornata come questa è impossibile che non ci sia la mano di qualcuno per cui si sia sviluppato questo incendio. Non è la prima volta che questo prende fuoco e noi intensificheremo i controlli e verranno sicuramente individuati i responsabili di questo ennesimo atto di vandalismo.